Signore e signori, parliamoci chiaro, il mondo sta cambiando. Finalmente si riscopre un po' di preziosa saggezza, per esempio il ginseng. Già 5.000 anni fa il ginseng era il protagonista tra le erbe più apprezzate in Oriente. Bene, oggi c'è un solo amaro arricchito con ginseng, è amaro ramazzotti. Quando bevete un amaro, pensateci. Amaro ramazzotti, l'unico arricchito con ginseng. Quando bevete un amaro, pensateci. Signore e signori, parliamoci chiaro. Già 5.000 anni fa il ginseng era il protagonista della scienza erboristica dell'Oriente. Bene, oggi c'è un solo amaro arricchito con ginseng, è amaro ramazzotti. Quando bevete un amaro, pensateci.